Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video di Destiny 2. Oggi parleremo di diverse cose, parleremo innanzitutto di Xur, dove si trova Xur ve lo mostrerò e vi mostrerò anche che cosa vende e vi dirò che cosa vale veramente la pena usare. Poi parleremo anche di alcune altre cose rilevanti per il mio canale, quindi per quelli di voi che mi seguono ci saranno molte cose interessanti in questo video. E detto questo, se c'è una tematica che vi interessa in modo particolare, vi ricordo che giù nella barra dove mandate avanti il video è tutto dettagliato, quindi se volete passare alla parte che vi interessa non ve ne faccio una colpa, però gradirei comunque che guardasse tutto il video perché mi aiuterebbe un sacco. Detto questo, però prima di iniziare volevo ancora dirvi che questo video sarà un po' diverso nella sua struttura, ossia vedrete innanzitutto che non c'è la webcam, non mi potete vedere, e ho deciso di provare questo nuovo tipo di format di video perché mi permette di creare dei video un po' più creativi e un po' più flessibili, quindi fatemi sapere se questo tipo di video vi piace e casomai poi lo faremo anche in futuro. Detto questo però inizieremo subito con le cose che vi hanno spinti a cliccare su questo video, ossia ora inizieremo a parlare di Xur e di ciò che vende. Allora innanzitutto dove si trova Xur? Vi mostro velocemente dove potete trovarlo, è lì dove l'abbiamo trovato già nel primo video di Xur che ho portato sul canale, ossia la torre. Basta che andiate qui al cortile, andate poi nell'hangar, fin lì dove c'è Amanda Holiday e poi andate qui sopra dove si trova Xur. Potrete trovarlo qui e come potete vedere eccolo qui, il nostro Xur e ora vedremo un po' che cosa vende. Allora dell'arma che Xur vende non ne parlerò in dettaglio per ora perché la vedrete in sottofondo nel gameplay del video, tuttavia ne parlerò un po' più avanti nel video. Parliamo prima delle armature che vende Xur, quelle per il cacciatore, per il titano e per lo stregone. Allora prima c'è quella, la corazza per lo stregone, si chiama Lampone Fortunato e ciò che fa è che migliora il concatenamento della granata setante. Quindi in pratica vi migliora la granata, vabbè se avete una build con quella granata specifica lo potete usare, però secondo me non è che è una corazza così potente perché per il cacciatore c'è roba esotica molto più potente quindi effettivamente prendetela, prendete ogni cosa che sto per dirvi, che sto per mostrarvi, che Xur ha da offrire, perché così semmai la potenzieranno voi ce l'avrete già e l'avrete già da parte. Però per il momento come detto tenetela da parte perché non è che è poi questo granché. Poi per il titano abbiamo i pacificatori che sono dei stivali e fanno sì che ricarica le mitragliette riposte affinché siano subito pronte all'uso. Ossia praticamente vuol dire che voi per esempio sparate un intero magazzino di mitraglietta al vostro nemico, poi passate al prossimo nemico che è un po' più potente con il vostro lancerazzi per esempio. Poi quando tornate alla vostra mitraglietta l'avrete già ricaricata e potrete continuare a sparare con la vostra mitraglietta. Questo è molto utile quindi se a voi piacciono le mitragliette e avete una build della mitraglietta ovviamente prendete i pacificatori perché possono esservi di grande aiuto. In pratica non dovrete mai ricaricare la mitraglietta se passate da un'arma all'altra. Poi infine abbiamo ancora il vespro raggiato, è una corazza per il cacciatore e fa sì che attivare la fonte rilascia un'ondata d'arco, quindi come una specie di onda d'urto. Inoltre l'energia della fonte si ricarica più velocemente quando siete circondati da nemici. Quindi questo è molto molto buono se volete respingere i nemici però anche qui come per il cacciatore ci sono cose migliori per lo stregone quindi a meno che non abbiate proprio una build apposta per la vostra fonte o il vostro obiettivo non è solamente respingere i nemici. Secondo me non dovreste usare questo pezzo qui di corazza quindi effettivamente prendetelo però tenetelo da parte. Infine non dimenticatevi che potete prendere ogni settimana l'engramma esotico di Xur. Ve ne vende sempre uno però potete prenderne quanti ne volete se avete un messaggio esotico. Detto questo però prendetene sempre uno perché vi potrebbe capitare una delle cose esotiche che non avete già. Per esempio io questa settimana mi è capitato il demone della trinità che è l'arco che vende Xur e è uno se non l'arco più potente nel gioco e anche una delle armi più potenti nel gioco col suo catalizzatore. Detto questo però voi date un'occhiata a Xur e poi fatemi sapere cosa avete trovato all'interno del suo shop e dell'arma come detto parleremo tra un attimo. Ora detto questo il gameplay che state vedendo all'interno di questo video è un assalto che ho fatto io sono specializzato negli assalti è la cosa che mi piace fare il più in questo gioco e ho fatto l'assalto settimanale però adesso vedrete un po' l'arma in azione quella che ho presa da Xur e vedrete se effettivamente è potente oppure se magari non ne vale la pena. Allora passiamo alle cose ovvie. Innanzitutto è un fucile di ricognizione che si chiama giuramento dei bruciatori. Ora ciò che rende speciale questo fucile di ricognizione è che diversamente da tutti gli altri fucile a ricognizione è un fucile a ricognizione automatico. Questo vuol dire che praticamente voi tenete premuto il grilletto e potete continuare a sparare finché non vi si svuota il caricatore. Ora ciò che rende speciale però oltre a questo fucile di ricognizione è che quando sparate senza mirare quest'arma spara in modo molto più veloce e quest'arma in generale spara tipo dei piccoli missili, missili molto piccoli che poi esplodono e rintracciano il bersaglio quindi effettivamente con quest'arma qui non è che dovete mirare molto perché i proiettili praticamente si cercheranno i nemici e quella è una cosa molto buona quindi è ciò che rende speciale quest'arma e ovviamente questo effetto è attivo anche se sparate mirando però se sparerete mentre siete in modalità mirino sparerete molto più lentamente e inoltre i missili saranno un po' più veloci quindi questo vuol dire che se state fightando dei nemici che si trovano lontani magari è meglio spararli mentre siete in modalità mirino e se invece avete dei nemici intorno a voi e volete usare quest'arma ovviamente potete usare dovreste usare quest'arma senza mirare quindi effettivamente quella è una cosa che vedrete farmi anche durante il gameplay e è una cosa cui dovete fare attenzione ora la cosa che dovrei dire ancora su questo fucile di ricognizione è praticamente che è abbastanza nella media per il momento so che un tempo era forte e c'era gente che la usava però al momento non è più tanto forte infatti non vedo più molta gente utilizzarlo anche perché è un'arma esotica e quindi dovete usarla al posto delle altre armi esotiche che magari sono un po' più potenti quindi effettivamente se avete delle armi esotiche migliore non usate quest'arma qui a meno che non volete per forza usare un fucile da ricognizione abbastanza decente e devo dire che parlando di fucili da ricognizione questo qui è uno dei migliori però in generale i fucili da ricognizione non sono molto potenti quindi effettivamente la gente non è che li usa molto la gente preferisce usare gli altri tipi di arma quindi effettivamente non ve ne faccio una colpa se non vorrete usare quest'arma tuttavia è unica nel suo genere quindi ovviamente se volete usarla non c'è nulla di male e vi troverete bene sia a corto che a lungo raggio e come detto questa è un'arma che è adatta a ogni tipo di stile di gioco perché è un fucile da ricognizione potete usarla tipo per sniperare i nemici da lontano anche se non li shotterete però potete anche usarla da vicina come fucile da salto no perché come detto ha il fuoco automatico quindi effettivamente ogni persona dovrebbe trovarsi bene usando questo fucile da ricognizione e quindi è più che altro una cosa di preferenza detto questo ora passeremo alcune cose che riguardano il canale quindi praticamente io ieri non ho pubblicato il video di xxur perché ho dovuto mandare a riparare il mio pc e l'ho fatto riparare lo sto ancora testando non so se è ancora aggiustato al cento per cento però il risultato mi sembra abbastanza buono quindi per il momento sono contento tuttavia ci sono anche altre cose di cui dovremmo parlare ossia del programma settimanale della prossima settimana e delle prossime due settimane in pratica volevo dirvi che nelle prossime due settimane non vedrete né live né video di Apex Legends perché al momento mi sto prendendo una pausa da quel gioco non mi ci trovo più bene perché ha dei gravi problemi col matchmaking che a un certo punto iniziano a stancarti per cui ho bisogno di prendermi una pausa però non vuol dire che non porteremo più Apex Legends lo faremo non vi preoccupate però ho bisogno veramente di quel tempo di prendermi quel tempo perché è inutile giocare un gioco che poi solamente ti ti lascia frustrato e ti fa arrabbiare giusto a me piacciono i giochi competitivi però si sono giusti e il matchmaking in Apex Legends è tutt'altro che giusto quindi effettivamente per il momento ho deciso di lasciare quel gioco un po' da parte questo però è un'ottima cosa per ciò che riguarda Destiny 2 perché vuol dire che lo porteremo molto più spesso nelle prossime due settimane e ovviamente porteremo un po' più spesso anche Fortnite e magari porteremo anche una volta ogni tanto Minecraft quindi detto questo aspettatevi di vedere molto anche gli altri giochi e non vedo l'ora di parlare di molte altre cose qui su Destiny 2 ora di una cosa parleremo subito ossia del prossimo evento espansione l'espansione per quelli che non lo sanno è praticamente un sono come del DLC quindi dei contenuti scaricabili che voi potete scaricare e poi ci sono delle cose aggiuntive all'interno di Destiny 2 e per quelli di voi che seguono Destiny 2 probabilmente voi saprete che la nuova espansione avrà luogo su Europa la lunedì giove e non si sa ancora del tutto cosa ci sarà all'interno di questa espansione però purtroppo è giunta la notizia che l'espansione è stata rimandata per il momento quindi effettivamente doveva iniziare a settembre più o meno al 20 settembre se non mi sbaglio e ora è stata rimandata tipo al 10 di novembre e quindi vuol dire che ci sarà un piccolo ritardo per quell'espansione però non mi sembra nulla di grave perché anche dobbiamo tenere a mente che al momento con l'attuale pandemia è normale che le cose vengano un po' rimandate in tutti i giochi non solo in Destiny 2 quindi effettivamente qua è una cosa che dovremmo pazientarci però di sicuro la Bungie farà moltissime cose belle nel frattempo e ci saranno nuove armi e robe del genere e magari anche una cosa positiva perché così hanno più tempo per lavorare a questa nuova espansione e vorrebbe dire che magari troveremo molte più cose all'interno di quell'espansione e è veramente ciò che spero detto questo però ci faremo poi sorprendere vedremo che cosa ha in servo per noi questa espansione io me la sono già presa quindi appena uscirà ce l'avrò subito e ve la mostrerò ovviamente quindi rimanete iscritti al canale se non sapete se prenderla o meno così quando uscirà potrete farvene un'idea tramite i video che caricherò e ovviamente nella prossima settimana come ho detto prima continueremo con i nostri video Destiny 2 continueremo anche con la nostra serie tutorial e vi mostrerò moltissime cose detto questo però se la cosa vi interessa se questi video vi interessano ovviamente iscrivetevi al canale e lasciate un like se questo tipo di video vi è piaciuto e vabbè se non vi è piaciuto lasciate un dislike detto questo noi ci vedremo la prossima volta e non vedo l'ora di avervi di nuovo con me questo era tutto per oggi saluti dal vostro Eporion Grazie a tutti Grazie a tutti.